Sono Mino Vicenti, sono di Altamura, ho 44 anni e lavoro da oltre 10 anni nel settore della comunicazione internazionale, degli scambi giovanili e dell'apprendimento interculturale. Lavoro principalmente con l'associazione culturale Link di Altamura e in questi anni abbiamo sviluppato dei moduli di accompagnamento per giovani che vogliono cimentarsi in questo entusiasmante settore della mobilità internazionale e degli scambi giovanili e interculturali a livello europeo. Per cui le mie competenze sono a vostra disposizione, se anche voi volete tuffarvi in questo mondo fantastico degli scambi e della cooperazione della mobilità in Europa non dovete fare altro che contattarci e noi vi daremo tutto il supporto di cui avete bisogno per scrivere nuovi progetti e per fare nuove esperienze.